Che bellissimo tramonto! Sì, ti piacciono molto le palle di fuoco! Vediamolo di nuovo. Clicca sul cielo con il pulsante azione per attivare la modalità meridiana della tua mano. Quando rilascerai il pulsante azione, il sole si muoverà nel cielo. Ah, potere sul sole! Un grande potere comporta una grande responsabilità. Padrone, facci vedere come si fa. Che bello il buio! Non amo affatto il giorno. Ma la vita non può esistere senza luce solare. Scegli di nuovo il giorno. Molto bene! Noi! 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione